salve amici e amiche sono passati ormai 14 giorni due settimane da quando l'ucraina ha invaso la regione di kursk e non si vedono segnali di arresto nella loro avanzata continuano gli attacchi ucraini ai pontoni grazie che i russi provano a costruire sul fiume seim questo rappresenta una barriera naturale che ha isolato 3000 soldati russi nella parte ovest della regione quindi è presumibile pensare che gli ucraini vorranno conquistare e consolidare quest'area nel frattempo nelle altre quattro direzioni di avanzata gli ucraini stanno affrontando le forze russe e si moltiplicano gli attacchi con droni attacchi missilistici e gli attacchi aerei per rispondere a un commento di andrea mi ha chiesto che vorrebbe sapere vorrebbe sapere se ci sono notizie sulle perdite ucraine nella regione del kursk perché alcuni blogger dice lui scrivono che sono molto alte ma dalla descrizione che viene fatta dell'operazione mi sembra una bufala ha scritto allora andrea è molto difficile trovare una risposta precisa ho fatto delle ricerche e gli ucraini in queste due settimane fra l'altro sono estremamente silenziosi fanno comunicati molto generici che non vanno oltre i villaggi e la percentuale di territorio occupato il mondo ha scoperto l'avanzata nella regione di kursk praticamente dai media russi cioè le immagini che circolano spesso arrivano proprio dai residenti dell'aria è la propaganda russa letteralmente che qualche volta fa anche degli enormi strafalcioni come per esempio qualche giorno fa ha voluto passare questo video in cui diceva che un k 52 aveva distrutto dei mezzi ucraini ma in realtà si trattava palesemente di fuoco amico già ma a parte questo se dobbiamo prendere per buone le parole di mosca parlano di perdite nelle file ucraine di circa 330 soldati e 27 27 veicoli al giorno di media per citare questo articolo che se vi interessa ve lo passo in descrizione parla dicendo le forze russe hanno respinto gli attacchi ucraini in queste città le forze russe hanno colpito truppe e veicoli vicino a questi insediamenti eccetera eccetera e parla poi delle perdite cumulative le perdite complessive dice dell'ucraina nel periodo dell'operazione nella regione ammontano a 3800 soldati 54 carri armati 26 mezzi d'assalto 46 mezzi d'assalto corazzati eccetera eccetera la lista è lunga una cosa interessante da notare in questo articolo è che nella lista delle città menzionate ce ne sono alcune che sono veramente tanto a nord est di kursk vi faccio vedere sulla mappa quindi qui è qui se dovessi disegnare l'area in cui i russi da come loro dicono hanno combattuto le forze ucraine insomma non dovrebbe essere questa che viene riportata dalle mappe che stiamo seguendo in questi giorni ma molto più grande quindi qualcosa non torna a questo punto uno cosa dovrebbe pensare della situazione al fronte sul discorso delle perdite è inverosimile che i russi siano riusciti a fare questi numeri e questi danni cioè non penso che gli ucraini abbiano schierato un numero così consistente di forze nella regione visto che all'inizio l'operazione è stata fatta praticamente con 200 300 uomini e una ventina di mezzi poi sono stati per carità sono arrivati anche altri adesso si parla di circa 5.000 soldati ma se i russi ne hanno fatti fuori 3.800 cioè praticamente adesso non dovrebbero esserci più forze ucraine nella zona però insomma prendiamo questi numeri per quello che sono come sempre la fonda fonte russa c'è poco sono poco attendibili ecco e comunque magari mi sbaglio ma in ogni caso è inutile dire che non ci siano state vittime nelle file ucraina ci sono state come secondo me se dovessi fare io una stima delle perdite ucraine basandomi sui video che ho visto e le geolocalizzazioni dai video le foto i mezzi distrutti credo che il numero delle vittime ucraine dovrebbe aggirarsi fra le 200 unità e mille mille uomini in 14 giorni questo perché appunto se consideriamo il numero dei mezzi riportati come distrutti che potevano contenere dai 2 ai 6 8 soldati si fa presto a fare due conti e questo poi bisogna aggiungere ai combattimenti a terra comunque anche gli ucraini hanno condotto i loro attacchi aerei missilistici che sono stati documentati per esempio questa icona che vi mostro nella città di tecchino collega è collegata al video di una j dam che colpisce un bunker sotterraneo russo sappiamo che l'aviazione ucraina sta usando i mig 29 per lanciare queste bombe intelligenti vi mostro questa immagine in cui si vede il momento del rilascio di queste bombe mentre il mig 29 va come si dice in overbank cioè significa che fa una rotazione di oltre 90 gradi sull'asse del rollio questa virata vi mostro anche questo video che documenta questo tipo di attacco questa virata viene fatta per tre motivi il primo è per allontanarsi il più velocemente dall'area secondo per evitare di colpire le stesse bombe il terzo è per avere una conferma visiva del rilascio dell'oggetto questa bomba è francese tra l'altro quindi si parla della ass sm che è una bomba convenzionale che viene accelerata da un piccolo razzo così le dà maggiore gittata e poi ha un sistema di guida doppio gps e inerziale insomma non necessita di guida dall'aereo da parte dell'aerolanciatore che una volta lanciata può andarsene grazie a questo sistema di guida altamente tecnologico la bomba ha una precisione nell'ordine di 10 metri sul bersaglio sono bombe che erano state pensate per essere equipaggiate sui mirage f1 e mirage 2000 e che hanno dimostrato di essere estremamente valide già in libia dove c'è un record di distanza di lancio di 55 chilometri su un carro armato si nota fra l'altro un'intensificazione anche delle operazioni aeree russe insomma pare che abbiano mangiato la foglia e abbiano risposto alla provocazione ucraina e stanno letteralmente spremendo l'aviazione la vks per mettere in scena una vera e propria prova di forza se dobbiamo guardare poi la mappa di deep state è rimasta praticamente invariata fra in questi due giorni nella regione di kursk probabilmente domani vedremo un aggiornamento mentre se andiamo a vedere il fronte a sud est nell'area del donesk i russi stanno continuando a spingere verso pokrovsk che rappresenta la prima vera città con qualche importanza strategica di questa avanzata che va avanti da oltre un anno se scorriamo indietro nella cronologia di deep state vediamo che l'anno scorso a oggi tipo il 20 agosto 2023 i russi dovevano ancora invadere avdivka un anno dopo la situazione è questa le confrontiamo quindi consideriamo che la distanza fra avdivka e pokrovsk è di circa 50 chilometri quindi in questa parte del fronte dove hanno maggiore concentrazione di reggimenti i russi sono avanzati di 35 chilometri al costo ricordiamolo di decine di migliaia se non centinaia di migliaia di vite umane le forze ucraine sono avanzate di 35 chilometri nella regione di kursk in dieci giorni quindi lasciando perdere un attimo i discorsi facili su questo confronto quello che è utile dire è che il secondo esercito più forte del mondo se non addirittura secondo i filo russi il primo esercito più forte del mondo è riuscito ad avanzare di 35 chilometri in un anno passiamo avanti il canale di konstantin di inside russia per fortuna ha ripreso a pubblicare video in questi ultimi due video sono sono piuttosto interessanti gli argomenti che tratta e come sempre specialmente se siete filo russi vi consiglio di guardare i suoi video perché secondo me è un italiano che tifa per la russia è come tipo un napoletano che tifa bergamo la stessa cosa secondo me sarebbe interessante andare a sentire l'opinione di un vero russo su questo problema del conflitto no e poi ne riparliamo giustamente ha fatto notare il comportamento anomalo di putin in queste due settimane il fatto che per esempio si è allontanato dal cremlino secondo giorno credo nel video dei due abbiamo visto il suo elicottero lasciare appunto lasciare l'aria e ci sono stati pochissimi comunicati ufficiali da parte del cremlino su questa situazione che voglio dire dovrebbe essere senza precedenti giusto ma a parte la televisione russa il cremlino sembra del tutto incosciente della gravità della situazione la cosa penso sia voluta anche secondo costantin la visita di putin in azerbaijan ha solo lo scopo di stabilire dei contratti per le forniture di petrolio per la russia in questa foto lo vediamo oggi visitare una fabbrica di caramelle come se fosse niente per quanto riguarda invece una fonte ucraina che nexta tv leggo questo trafiletto in cui dice che l'ucraina potrebbe assumere il controllo di altri 600 700 chilometri quadrati di territorio russo nelle prossime ore scusate il motorino ivan stupak analista militare ed ex dipendente del servizio di sicurezza ucraino ha parlato a nexta della situazione nella regione di kursk dice che qui si trovano grandi magazzini russi con armi munizioni e attrezzature che devono essere sequestrati questo è uno degli obiettivi dell'esercito ucraino ritiene stupak inoltre non dovremmo dimenticare di ricostituire il fondo di scambio con i prigionieri russi l'esperto fra l'altro non esclude che le forze ucraine possano sferrare un duro colpo alle posizioni indebolite dei russi nei territori occupati tuttavia impossibile dirlo con certezza poiché i piani reali dell'esercito ucraino sono tenuti sotto il più stretto segreto interessante questa questo trafiletto perché appunto accenna che qualcosa probabilmente si sta per muovere nei territori occupati poi c'è stato quest'altro sondaggio sempre da nexta tv che chiede ai utenti di dire in poche parole cosa pensano dell'ucraina e vabbè i commenti sono stati belli ve li lascio in descrizione passiamo invece ad un'altra fonte russa astra che ha documentato non vi posso mostrare le immagini che fra ieri e oggi 45 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo e 11 di questi nella regione di mosca secondo il maggiore sergei sobyanin è stato il più grande tentativo di attacco nell'area di mosca non posso confermare l'accaduto perché questi video non sono geolocalizzati ma quindi vedremo nei prossimi giorni cosa diranno il deposito di il carburante dell'area del di roston sta continuando a bruciare negli ultimi due video lo avevo accennato l'incendio non è ancora stato domato sono quattro giorni che brucia sono saltati in aria altri silos andiamo avanti due notizie sempre da fonte ucraina continuano le catture di mezzi russi c'è un video che testimonia la cattura di un t 90 m che è uno dei migliori carri russi in circolazione e potrà facilmente essere riparato e utilizzato nella direzione opposta da cui è venuto un'altra notizia che è apparsa ieri un pilota di droni russo il cui nickname è silver dopo mesi di soprusi da parte dei suoi superiori ha fatto la sua scelta attaccando il suo centro di comando e contattando la legione di liberazione della russia che poi lo ha guidato fino alla consegnarsi alle forze armate ucraine dove ha deciso di combattere per loro adesso dalla foto delle interviste si vede dai suoi occhi insomma che consapevole della sua situazione e probabilmente la sua espressione ci dice anche qualcosa di quello che ha dovuto vedere prima di reagire in questo modo non posso parlare di queste cose non posso neanche accennarle per la politica di youtube ma sappiate che i soldati russi sono capaci delle peggiori cose contro i loro stessi soldati se non contro i civili insomma in generale ok andiamo avanti con notizie poco meno pesanti immagino stiate seguendo le notizie che arrivano dagli stati uniti con la corsa alle presidenziali a casa bianca non voglio entrare nel merito anche perché è difficile per noi europei capire che in america non esiste la destra e la sinistra come la intendiamo noi è un po' diversa la questione però è interessante vedere questa foto in cui qualcuno ha fatto una domanda pertinente a putin e gli ha chiesto ci può essere una donna presidente alla russia alla guida della russia e lui ha risposto no perché io non sono donna comunque a parte questo poi circolano queste strane foto che non condivido e quest'altra che non condivido e basta detto questo vi saluto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace un abbraccio alla prossima